Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di Antenna 2. Ultimo giorno estivo con temperature ancora gradevoli e nella media del periodo. Ma attenzione perché da domani una profonda saccatura arriverà proprio da ovest e determinerà un sensibile peggioramento del tempo. Questo peggioramento del tempo che continuerà anche nei prossimi giorni e insisterà soprattutto nella giornata di lunedì e di mercoledì. Cosa accadrà? Che tutta l'aria fredda presente sulle isole britanniche si riverserà sul Golfo del Leone approfondendo una saccatura, una circolazione depressionaria proprio sul nord dell'Italia. Le temperature invece estive rimarranno solo marginali sul centro-sud dell'Italia dove splenderà ancora il sole. Ecco, osservate proprio l'interazione di quest'aria piuttosto calda e umida con l'aria più fredda proveniente dal nord Europa. Cosa accadrà? Che sulle regioni settentrionali dell'Italia e soprattutto sulla catena alpina e prealpina e quindi anche in Valle Seriana si genereranno intensi temporali nella giornata di lunedì. Dei temporali che apporteranno appunto forti precipitazioni e localmente locali grandinate. Passiamo all'evoluzione da satellite. Ancora è molto protetto il Mediterraneo centro-occidentale da questa cupola anticiclonica, l'anticiclone delle Azzorre. Ma attenzione agli avamposti di questa circolazione depressionaria che ora si trovano fra la Francia e le isole britanniche. Questa struttura depressionaria avanzerà gradualmente verso ovest conquistando gran parte del Mediterraneo centro-occidentale e per più giorni determinerà brutto tempo sulle nostre regioni settentrionali ed in Valle Seriana. Ecco, evoluzione per la giornata di domani. Allora, nella zona dell'Alta Valle Seriana e Valle di Scalve avremo in prevalenza cielo sereno o poco nuvoloso al mattino qualche annuvolamento più marcato in prossimità dei nostri rilievi orobici mentre splenderà il sole nella Medio-Bassa Valle Seriana e il Lago di Seo. Ma attenzione perché dal pomeriggio graduale aumento della nuvolosità a partire dai settori più occidentali quindi dalla Valle Brembana verso la Valle Seriana con addirittura delle piogge che inizieranno piuttosto deboli quindi avremo delle piovigini in serata e piogge via via sempre più intense dalla notte. Ecco, cosa accadrà in settimana in Valle Seriana? Abbiamo detto giornata di maltempo lunedì. Avremo piogge abbondanti temporali anche di forte intensità accompagnate da raffiche di vento e locali grandinate. Temperature in forte diminuzione con minime comprese fra i 15 e massime di 18 gradi zero termico a 3.500 metri di altitudine piogge localmente abbondanti sui rilievi orobici con accumuli anche di 70-80 mm in 12-18 ore. Martedì il tempo andrà leggermente migliorando comunque resterà molto instabile quindi qualche schiarita ma accompagnata subito da nuvolamenti a tratti intensi con locali piovaschi. Temperature in graduale ripresa comprese fra i 13 e i 22 gradi. Ma attenzione perché mercoledì arriverà una seconda perturbazione ancora una volta dalle isole britanniche e catturata dalla circolazione depressionaria sul Mediterraneo nuove piogge intense, nuova diminuzione delle temperature spruzzate di neve sui nostri rilievi solo alle quote più alte intorno ai 2.800 metri di altitudine. Giovedì nuova giornata instabile, nuova giornata con tempo leggermente migliore ma ancora decisamente autunnale vedete che ci saranno ancora possibilità di acquazzoni e temperature decisamente autunnali. Venerdì la mattina dovrebbe andare abbastanza bene ma attenzione perché nel pomeriggio arriverà un nuovo peggioramento del tempo che probabilmente insisterà anche nel prossimo weekend quindi c'è una settimana molto molto autunnale compromessa dalle piogge con due eventi di maltempo particolarmente intensi lunedì e mercoledì. E per il meteo è tutto, vi aspetto sempre qui su Antenna 2